cari amici oggi parliamo di inchiostri nella fattispecie tratterò del mitico ferro gallico che è un inchiostro medievale per eccellenza quindi è stato adoperato praticamente fino ai primi del novecento origine antichissime addirittura dei proto ferro gallici arrivano direttamente dall'epoca romana è un inchiostro costituito da elementi naturali molto semplici però nonostante questa sua intrinseca diciamo semplicità è un inchiostro veramente straordinario in fondo è stato l'inchiostro che ha permesso la trasmissione del sapere via manoscritto di tutto di tutto il nostro vecchio sapere antico in quanto è un inchiosto indelebile molto che per me ha molto le fibre dei suppositi quindi in antichità delle pergamene o dei papiri o anche successivamente poi della carta l'unico neo è quello di avere un'eccessiva acidità però ad esempio nel mio caso questo però accadeva nel medioevo perché praticamente esageravano con le percentuali di sulfato ferroso che arriva aggiunto al composto e ciò comportava l'acidità molto maggiorata notevole però io sono stato attento ad usarlo bene quindi a fare avvenire correttamente le reazioni di complessazione dei tannini presenti nelle galle e a quel punto anche con altri componenti che ad esempio qua vediamo che abbassano notevolmente l'acidità ma adesso io vado a parlare del uno per uno dei componenti allora qua abbiamo le galle da cui deriva sostanzialmente il nome non ferro gallico qua abbiamo galle nostrane provenienti da da querce nostrane roverelle vedete sono ci sono piccole ma non normalmente sono molto grandi molto leggere ecco invece qua vediamo la varietà galle siriano di aleppo molto più piccole con degli speroni vedete a questi aculei sono molto più pesanti e molto più ricche di tannino sono le migliori per la produzione dell'inchiostro poi naturalmente abbiamo acqua che ci va praticamente ma acqua piovana quindi sostanzialmente priva di sali e depositi di calcio quindi se non si acqua piovana buona si prende acqua demireralizzata poi un altro componente importante è il sulfato di ferro che anche in antichità si poteva trovare naturalmente poi la gomma arabica che sono quelle cristallizzazione che alcuni alberi tipo ciliegio pesco acace tirano fuori dalla corteccia e solubile da corpo all'inchiostro va da quindi aiuta l'attaccamento dell'inchiostro al pennino ma anche da corpo a voluminio ecco qua abbiamo uno dei componenti che aggiungo sempre perché poi nel medioevo c'erano tantissime ricette io ne ho provate un po tante però poi ho fatto una mia ricetta dove appunto metto dentro ad esempio queste sono foglie di scotano che viene cioè ci viene già di suo perché sono ricche di tannino venivano usate nell'industria conciaria e permettono l'ottenimento di un ottimo ferro gallico già c'è ferro gallico no perché a base se si fa solo discotta non ci sono le galle però è un nero veramente tipo questo qui simile veramente al ferro gallico mi abbassa notevolmente anche l'acidità quindi io poi entrano in composizione anche altre cose ad esempio scorze di melograno che danno matericità all'inchiostro insomma si possono provare tante tante varianti no però essenzialmente galle solfato di ferro acqua e gomma arabica anche queste parti accessori comunque hanno la sua importanza per ridurre poi l'acidità e soprattutto anche il deposito fisso che mi si forma sul fondo dei calamari perché qua vedete ho due inchiostri che poi praticamente sono lo stesso abbiamo l'iron gal l'iron gal classico e qua abbiamo l'ix gal stilografico e la differenza è solo una che questo ha un filtraggio minimo insomma lo filtro due o tre volte quindi è sempre soggetto a un deposito questo qua è quasi puro nel senso che viene il contenitore grande dove lo raccolgo viene tenuto in frigorifero per aumentarmi la flocculazione quindi il deposito di queste particelle di sospensione e successivamente viene filtrato appunto dalle 7 alle 20 volte a seconda insomma dei tipi di inchiostro quindi è un super filtrato perché non mi deve occludere il canale di capillarità che è presente nelle condotte stilografiche ok quindi è un inchiostro proprio per penne stilografiche adesso andiamo a provarli tutte e due brevemente vi faccio solo vedere qualche lettera allora il bello di questo inchiostro che non ha pigmenti quindi l'annerimento dovuto principalmente a reazioni di ossidazione a contatto dell'ossigeno presente nell'aria allora vedete che non è molto scuro un grigio intenso ma è sostanzialmente un grigio e man mano annerirà in maniera sempre più profonda sul scrivente in onciale ecco guardate la prima lettera e l'ultima quindi questo qui ho scritto con un iron gall classico adesso vado con l'altro ma sostanzialmente uguale non me ne accorgo manco della differenza diciamo che appunto solo molto più fine il filtraggio e quindi mi permette un uso consono con la stereografica ripeto le stesse lettere nel frattempo vedete che stanno diventando molto nere e adesso vedrete che vedete che è molto chiaro molto più chiaro quando io inizio a scrivere ed è poi completamente indelebile all'acqua ecco vi prego di notare sempre la prima lettera e l'ultima che traccio vedete molto molto più chiaro ma poi diventerà veramente di un nero intensissimo tipo nero china veramente poi se si esagera un po con la gomma ravica oltre a dare corpo gli da anche un po di lucidità niente questa è la prova per farvi vedere che insomma tra le altre cose sto cercando un po di sdoganare questo inchiostro qua l'x galla all'uso stilografico perché spesso viene diciamo in paniera secondo me erronea un po ostracizzato questo inchiostro perché si dice che rovina le stilografiche ma non rovina nulla perché pensi il pennino in oro ed è fatto in ebanito in celluloide la penna ma anche le moderne resine non patiscono granché l'acidità dell'inchiostro l'unico neo è che il canale di capillarità della condotta se si intasa perché ci vanno le particelle di sospensione può provocarmi diciamo l'annullamento del flusso di alimentazione sul pennino nel frattempo e quindi sostanzialmente ho quel problema ma in questo caso l'ho praticamente eliminato nel frattempo vedete che l'inchiostro sta diventando sempre più nero ed è una cosa veramente molto bella anche da vedere no questo questo viraggio all'oscuro ok quindi con questo si conclude la prova e vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre grazie